ciao a tutti fringuelli oggi monteremo il secondo porta borraccia sulla mia jant propel advanced ed lo avete visto in questi giorni la sto preparando per la stagione per la bella stagione eccolo qua facciamo un unboxing in diretta eccolo ancora nella sua confezione diciamo così originale è un prodotto di elite un prodotto che ha la stessa colorazione della bicicletta eccolo come vedete è dello stesso arancio non costa poco costa abbastanza spese di spedizione incluse 24 euro e 90 per carità ce ne sono di più economici tanto questo aggeggio deve semplicemente tenere la nostra borraccia e quindi avrei potuto risparmiare prendendo un oggetto più economico e probabilmente anche più modesto per quanto riguarda la sua estetica ovviamente nelle due borracce non consiglio mai né di tenere solo acqua né di tenere solo sali consiglio semmai di tenere da una parte i sali minerali e dall'altra l'acqua insomma diciamo che la seconda borraccia può servire per più più scopi ok ragazzi il montaggio completato adesso non mi resta altro che montare le due borracce e essere pronto per partire in bicicletta come sempre ci vediamo al prossimo video buon allenamento alla prossima ciao